Nella prima giornata del campionato di eccellenza a Girone B, la Battipagliese cede il passo alla Polisportiva Santa Maria per tre reti ad uno, vantaggio ospite con Tenneriello al dodicesimo del primo tempo. Nella ripresa, poi dopo il raddoppio ancora ad opera di Tenneriello al settimo, arriva la reazione della Battipagliese con la rete di Munardo al dodicesimo che accorcia le distanze. Si infortuna l'attaccante Piccirillo, brutta tegola per la Battipagliese. Le zebrette provano a trovare il pareggio e regrimano per un calcio di rigore non dato. Nel finale è arrivato il tris dell'ex Manzo e il palo di Romano.